Sensory Academy è la prima uscita pubblica della conferenza delle accademie costituita sulla fine del 2017 da 9 Corporate Academy che hanno per obiettivi quello del trasferimento della conoscenza ad alto livello. La conferenza delle accademie nasce infatti da una ricerca fatta dal Centro Studi Associatori che ha messo in evidenza l'esistenza in Italia di 300 scuole del gusto che tutte insieme passano più di 350 mila vie all'anno. Quindi è un filone formativo di importanza notevolissima dove però abbiamo diversi livelli qualitativi. Il concetto e quindi tra gli obiettivi della conferenza dell'Accademia c'è proprio quella di garantire agli utenti della formazione professionale un livello adeguato in funzione dei percorsi che scelgono per la loro qualificazione. Sensory Academy nasce quindi come forma dimostrativa di questo e la miglior dimostrazione che si può fare per il trasferimento della conoscenza è logicamente quella del gioco. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.